Buonasera e benvenuti alla seconda edizione DJ News. Partiamo dalla cronaca. Stava andando al lavoro come ogni mattina quando, improvvisamente, si è schiantato contro il rimorchio di un trattore. Lo schianto, sulla cui dinamica indagano i carabinieri, si è verificato stamani nella Marsica, lungo la statale 40, dove ha perso la vita Emilio Biciardi, 22 anni, originario di Luco dei Marsi. Il rimorchio era carico di ortaggi. È ancora da accertare se il trattore si trovasse fermo o se il mezzo fosse uscito da una strada secondaria. Aula blindata stamane per l'apertura del processo di appello all'Aquila sulla commissione Grandi Rischi. TV e carta stampata sono rimaste fuori. Presente, invece, i familiari delle vittime e gli studenti del liceo Scienze Umane e Cotugno. Vediamo i particolari nel servizio. Il procuratore generale della Corte d'Appello dell'Aquila, Romolo Como, ha chiesto al termine della prima udienza del processo di appello alla commissione Grandi Rischi sul sisma dell'Aquila la conferma della pena del primo grado di sei anni di reclusione per i sette componenti della commissione condannati per omicidio colposo e lesioni colpose. I tentativi ancora in atto di voler considerare quello alla commissione Grandi Rischi un processo alla scienza non sono un equivoco ma disinformazione con la quale si accusa l'ambiente di avere messo sotto processo gli scienziati. Così il procuratore generale in udienza stamani. La colpa non attiene al mancato allarme ma all'errata in idonea superficiale analisi del rischio e di una carente e fuorviante informazione che ha fatto mutare i comportamenti degli aquilani di attuare le tradizionali misure dopo le scosse forti. La colpa generica è la negligenza e l'imprudenza nel fare quella valutazione. Lo ha sostenuto ancora il procuratore generale. Un'udienza quella di stamattina a porte chiuse dove non hanno preso parte la stampa e le televisioni ma erano presenti i familiari delle vittime e gli studenti del liceo di scienza umane Cotugna dell'Aquila. Le prossime due udienze del processo di appello agli scienziati sono state fissate per venerdì e sabato della prossima settimana. Nelle intenzioni della Corte c'è l'intenzione di celebrare le udienze in tutte le settimane di ottobre per definire il processo entro lo stesso mese. Carabinieri a tutto campo nel contrasto dell'illegalità. In queste ore i militari della stazione di Porto San Giorgio hanno tratto in arresto un cinquantenne di fermo pregiudicato e agli arresti domiciliari per fatti connessi al traffico illecito di stupefacenti. I carabinieri hanno così dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria di fermo che aveva accolto gli esiti d'indagine riassunti dagli stessi militari su un furto di un'autovettura che l'uomo aveva commesso lo scorso 5 ottobre. Proprio in quella data infatti il cinquantenne nel recarsi al centro di tossicodipendenze di Porto San Telfidio aveva sfondato il finestrino di un'auto a Porto San Giorgio rubando un borsello al suo interno per un bottino di circa 200 euro e un telefono cellulare. Come se non bastasse, negli stessi giorni l'uomo aveva anche rubato 50 euro dall'abitazione dello zio e per lui ora si sono aperte le porte del carcere. Controlli da parte dei carabinieri di Senigallia, quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Ancona e gli ispettori della direzione provinciale del lavoro in due aziende di produzione di abbigliamento e confezioni per conto di terzi a Corinaldo. Il titolare della prima, un cinese di 44 anni, residente a Monsampolo del Tronto, che impiegava 21 lavoratori cinesi regolari sul territorio nazionale, è stato denunciato per violazione delle norme urbanistiche perché aveva costruito un capannone abusivo adibito a cucina. La seconda, di un ottenne cinese, aveva 5 dipendenti con nazionali, tutti regolari. Tre di loro però, occupati sulle linee di produzione all'interno dell'azienda, sono risultati non regolarmente assunti. Al titolare è stata combinata una multa da 15 mila euro con proposta di sospensione per l'attività imprenditoriale. Si vantava di avere amicizie ai piani alti della RAI e per questo motivo, se avesse voluto, lo avrebbe fatto assumere dall'azienda pubblica radiotelevisiva, solo che per sbloccare la faccenda ed avviare le pratiche, era necessario pagare anticipatamente la somma di 10 mila euro. Nella trappola è finito un disoccupato 46enne di Tortoreto che ha pagato l'influente collocatore che è sparito con i soldi senza fargli avere il posto di lavoro. Il truffato ha raccontato tutto ai carabinieri, dopo aver atteso settimane che qualcuno lo chiamasse, fornendo l'identità del millantatore che gli si era presentato alla porta, che è stato identificato e denunciato con l'accusa di millantato credito e truffa aggravata. Si tratta di un aquilano di 46 anni con precedenti. Mettere in campo le migliori strategie per la mitigazione del rischio idrogeologico, lo ha affermato il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in un incontro tenutosi a Teramo con le istituzioni e i sindaci del territorio. Vediamo i particolari nel servizio. Il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, nella sua veste di commissario straordinario delegato alla mitigazione del rischio idrogeologico, ha incontrato a Teramo i sindaci e i responsabili degli uffici tecnici dei comuni della provincia di Teramo con l'intento di organizzare un sistema di rilevazione e di mitigazione del rischio idrogeologico che interessa l'intero territorio abruzzese. All'incontro hanno partecipato il consigliere Luciano Monticelli, responsabile del genio civile dell'Aquila-Teramo. Il commissario straordinario delegato alla mitigazione del rischio sismico, le cui competenze sono disciplinate dal decreto legge 24 giugno 2014, è tenuto ad attuare le procedure necessarie alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e le regioni italiane. Introducendo i lavori di Alfonso ha indicato come priorità la realizzazione di una dettagliata mappa del rischio idrogeologico dalla quale sia possibile individuare i livelli di pericolosità dei diversi territori provinciali in modo da definire rapidamente modalità e tempi di intervento. Per la prima volta, secondo una gradazione di complessità e pericolosità, parto alla volta della struttura tecnica di missione di Palazzo Chigi, presieduta da De Angelis e da Mauro Grassi, per chiedere documentalmente strutturato le risorse che occorrono, sapendo che c'è questa annualità in conclusione e poi ce ne sarà un'altra. Sono autorità governativa centrale per mitigare il rischio del dissesto e quindi ci mettiamo all'opera. In passato non c'era questo, noi lo vogliamo insediare anche alla luce delle competenze sopravvenute ai presidenti di giunta regionale. Ci sono situazioni davvero complesse, alcune sono pericolose anche per la vita dei singoli e delle collettività. Su questo ci stiamo adoperando avendo dati, informazioni e dossier tecnici. Ladri in azione di notte in un supermercato, fanno irruzione e scappano con la cassaforte. La notte scorsa i gnoti, dopo essere penetrati all'interno del supermercato Coal di Sassoferrato, hanno portato via la cassaforte contenente la somma di 20.000 euro circa in contanti. Indagini da parte dei carabinieri di Sassoferrato e il nucleo operativo di Fabriano. Due episodi analoghi, furti nei centri commerciali a Martinsicuro e a Colonnella, con altrettante denunce. Uno dei due episodi si è verificato questa mattina all'interno di un negozio di articoli sportivi all'interno del centro commerciale La Torre, a Villarosa di Martinsicuro. Un giovane romeno, dopo aver rimosso la placca antitaccheggio, si è impossessato di una tuta da ginnastica. I movimenti del 33enne sono però stati notati dagli addetti alla vigilanza, che hanno atteso l'uscita del romeno assieme ai carabinieri. L'uomo è stato bloccato e denunciato con l'accusa di furto aggravato. Una vicenda analoga invece si è verificata ieri al Media World di Colonnella, dove un gruppo di romeni ha rubato un telefono cellulare. Anche in questa circostanza, il direttore dell'attività si è accorto di quello che stava accadendo e attraverso gli addetti alla vigilanza ha cercato di bloccare la banda. Uno dei romeni di 40 anni è stato bloccato e trovato in possesso della scatola, però vuota, dove era contenuto il cellulare. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per furto aggravato, in attesa di identificare i complici. Furto notturno nella sala slot di Viale Mazzini di Albadriatica. Nelle scorse notti la banda specializzata in furti nelle sale gioco ha preso di mira l'attività nella zona centrale di Albadriatica. Dopo aver forzato uno degli ingressi, la banda ha poi preso di mira le macchinette. L'ammontare del danno, tra soldi rubati e danni agli infissi danneggiati per rintrodursi nel locale, è di alcune migliaia di euro. Sul furto indagano i carabinieri di Albadriatica. Un bracconiere è stato sorpreso dal corpo forestale dello Stato mentre cacciava utilizzando un richiamo elettoronico vietato dalla legge per il tordo bottaccio in località Montegiove di Fano. L'uomo, un quarantenne di Fano, era in un appostamento dai cui i forestali hanno sentito partire il richiamo. È stato denunciato, sequestrati il fucile da caccia e il congegno, dotato di scheda di memoria con il canto di varie specie ornitiche. L'assessore alla viabilità della provincia, Massimo Vagnoni, ha illustrato l'importanza dei progetti avviati dall'ente per il territorio vibratiano. Vediamo i particolari nel servizio. Il 15 novembre si inaugurerà un altro tassello di collegamento tra la Val Vibrata e Teramo con la fine dei lavori o quasi del collegamento della SP3 con Floriano di Campi. Sì, un tratto della Pedemontana molto importante, 16 milioni di euro di lavori, terminati a tempo di record in poco più di due anni. È un tratto molto importante, molto atteso e che dà una risposta alle tante istanze dei cittadini. Ma sulla Pedemontana non siamo fermi qui come provincia di Teramo perché a seguito di una delibera della regione Abruzzo dello scorso luglio che ha individuato la Pedemontana come priorità da inserire all'interno delle programmazioni ministeriali abbiamo fatto istanza appunto al Ministero per riaprire la conferenza dei servizi per avere ulteriori finanziamenti. Si tratta di un progetto già cantierabile che è la provincia di 180 milioni di euro e insomma rappresenta un'ulteriore risposta che si potrebbe dare a tante località che attendono queste opere da tanti anni. E per la Val Vibrata è importante anche la realizzazione del ponte di Campodino? Anche lì tante novità? Beh, insomma, per la Val Vibrata in questi mesi abbiamo messo in campo tante risorse. Dei 33 milioni di euro stanziate nel 2011, parte sono state già distribuite ai comuni e poi opere pubbliche importanti, anche il ponte di Campodino, ma saranno previste istituzioni al Comune di Corropoli per il ponte che ha realizzato diverso tempo fa. Strade importanti come la SP2, la 1A, la Civita, interventi sulla SP1 ed altri interventi importanti su viabilità provinciale che riguardano la Val Vibrata. Certo, non è una risposta completa rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio, ma rappresenta un primo passo importante. Quindi non solo un miglioramento del tratto viario, ma anche un indotto economico importante, perché sono milioni di euro che in qualche maniera di cui beneficeranno le imprese del territorio e quindi speriamo che questo aiuti anche a far ripartire l'economia. Doccia fredda per gli operai delle industrie tessili Valfino di Cellino Attanasio. Sono tornati in corteo questa mattina per protestare contro i ritardi di una decisione per l'avvio della Cassa Integrazione. La decisione è arrivata perché il giudice delegato, Gianni Cirillo, questa mattina ha autorizzato i commissari giudiziali a fare richiesta di Cassa Integrazione, ma il numero indicato dal giudice è inferiore di molto a quello concordato nell'accordo sottoscritto al Ministero del Lavoro, 103 contro 190. In presenza di una discordanza di questo, dicono i sindacati, si rischia quantomeno di rallentare le procedure di avvio degli ammortizzatori sociali con ripercussioni sulle retribuzioni e il futuro di questi lavoratori. E niente è stato chiarito sulla procedura di mobilità. Anche in questo caso, in previsione dell'introduzione dei tagli della legge Fornero, ci sono lavoratori che con la mobilità potrebbero maturare la pensione. E finora non è così. Il Presidente della Camera di Commercio di Ascoli presenta un piano di investimenti per favorire imprese e occupazione. Ce ne ha parlato nel corso di un'intervista con Daniela Facciolini nell'appuntamento odierno di 45 Giri. Vi proponiamo uno stralcio dell'intervista. Come Camera di Commercio di Ascoli saremo al fianco di tutti per quello che possiamo dare. Come Camera di Commercio di Ascoli sull'innovazione e sui fondi comunitari noi possiamo dare un valore aggiunto enorme di 20 anni di lobby con i nostri uffici fatti a Bruxelles. Poi non dimentichiamo che il sistema bancario insieme al sistema camerale può fare molto. E allora io confido con l'ABI che è presente anche nella Camera di Commercio di Ascoli con il dottor Dalmas che è il direttore generale della Banca dell'Adriatico di poter fare anche dei piani di investimento. Un'idea che ho io è utilizzare un fondo che noi avevamo con il Mise per poter creare un microcredito per le imprese e per l'internazionalizzazione che possa andare dai 2.000 ai 3.000 ai 5.000-6.000 euro, non di più. E lo vorrei fare già nel mese di novembre per poter dare dei piccoli finanziamenti o contribuire all'abbattimento degli interessi per le aziende. Però ecco, una cosa importante dovremmo sapere giocare di squadra. Secondo una rilevazione del Centro Studi di Confartigianato in Abruzzo in un anno si sono persi 21.000 posti di lavoro. Una vera e propria emorragia di posti di lavoro ha commentato Daniele Giangiulli, segretario di Confartigianato Abruzzo. La nostra regione è maglia nera in Italia in termini di calo occupazionale meno 4,3%, un dato da allarme rosso. Vediamo i particolari nel servizio. Sono 21.000 i posti di lavoro persi in Abruzzo tra il secondo trimestre 2014 e lo stesso periodo dell'anno precedente. Dal calcolo sono esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro, perché ad esempio impegnati negli studi. Anche gli occupati sono diventati 464.000 rispetto ai 485.000 del periodo precedente. Questa la fotografia dell'occupazione in Abruzzo secondo una rilevazione del centro studi di Confartigianato. Una vera e propria emorragia di posti di lavoro ha commentato Daniele Giangiulli, segretario di Confartigianato Abruzzo. La nostra regione è maglia nera in Italia in termini di calo occupazionale meno 4,3%, un dato da allarme rosso. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo perché la crisi morde e le imprese sono stremate. Allo il governo regionale poniamo l'esigenza di varare nuove, incisive riforme ed accelerare la pubblicazione dei bandi relativi alla garanzia giovani, sui quali siamo in ritardo rispetto ad altre regioni, nella convinzione che le misure previste da quest'ultima possano contribuire a invertire questa preoccupante tendenza sull'occupazione e a dare a migliaia di giovani abruzzesi l'opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro con esperienze che potrebbero tradursi in concrete possibilità occupazionali, sia sotto forma di lavoro dipendente, sia sotto forma di autoimpiego. Inoltre, conclude il segretario della Confederazione, anticipare il letti FR in busta paga vorrebbe dire contribuire a far chiudere centinaia di imprese e di conseguenza perdere ulteriori occupati. Scelta irrazionale che, mi auguro, venga rivista dal governo nazionale. Un momento di grande festa e di profondo significato per il mondo della scuola del Piceno. È stata infatti inaugurata oggi, alla presenza delle autorità del territorio di numerosi dirigenti scolastici, la nuova sede presso l'Hotel Marche dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l'Hospitalità Alberghiera, nato dall'accorpamento tra l'Istituto Agrario Celso Ulpiani e la sezione di Ascoli dell'Ipsar Buscemi. L'amministrazione provinciale, che ha tra le sue competenze l'edilizia scolastica, ha investito ben 789 mila euro tra fondi regionali e propri, per sistemare i locali che ospitano la scuola, che sono stati ammodernati e riqualificati sotto il profilo antisismico della prevenzione incendi e degli arredi. A tagliare il nastro tricolore posto sotto l'insegna dell'Istituto, c'erano il Presidente della provincia, Piero Celani, il Sindaco di Ascoli, Guido Castelli, la dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Ascoli Piceno, Fermo, Carla Sagretti, e la dirigente dell'Istituto, la professoressa Maria Luisa Bacchetti. Grande entusiasmo da parte dei ragazzi che hanno preparato un gustoso buffet, mettendo a frutto le loro competenze e dei docenti, sia dell'Istituto Ulpiani che dell'Alberghiero, a partire dalla professoressa Maria Loredana Pilone, collaboratrice della dirigente e responsabile del plesso scolastico. Riorganizzare la rete scolastica provinciale dando stabilità al sistema dell'istruzione del territorio nel medio e lungo termine e creare poli formativi moderni in grado di rispondere con efficacia alle crescenti sfide del lavoro e delle professioni del futuro. È questo l'obiettivo che la provincia si è posta con l'approvazione del nuovo piano di programmazione della rete scolastica per l'anno 2015-2016. Il piano rispetta in pieno le linee guida dettate dalla Regione Marche, garantendo un futuro a quegli istituti che si trovano in sofferenza o deficit numerico rispetto alla soglia media necessaria di 600 alunni per l'attribuzione della dirigenza scolastica. Dalla fusione tra l'Istituto Tecnico Statale Fermi e l'Ipsia Sacconi, entrambi di Ascoli, e l'Ipsia di Comunanza, nascerà il polo tecnologico professionale per l'automazione domotica assistenziale, sempre rispettando il criterio fondamentale della soglia dei mille studenti, dalla fusione tra l'Istituto Tecnico Umberto I e l'Istituto Commerciale Ceci e del Liceo Artistico Licini, tutti di Ascoli Piceno, verranno creati due poli, il polo tecnologico e artistico e il polo economico e professionale. La rete degli studenti medi è scesa in piazza ad Ascoli per protestare contro gli istituti azienda. Il corteo è partito dalla stazione per arrivare fino in Piazza del Popolo, dove gli studenti si sono divisi in tre gruppi per discutere su come rivalutare i tre luoghi più frequentati da ragazzi all'interno della città. Gli studenti contestano la nuova riforma proposta da Matteo Renzi, che vuole apportare cambiamenti drastici al nostro modello di società, inserendo i privati nelle scuole. Queste verranno trasformate in vere e proprie aziende, finalizzate alla produzione in serie di lavoratori modello. Stamattina in piazza a manifestare gli studenti per una scuola pubblica ed efficiente al fianco dei sindacati. Intanto la CGL di Fermo sta organizzando 14 pullman per portare a Roma il prossimo 25 ottobre 700 tra lavoratori pensionati, giovani, studenti e precari. Ma sentiamolo dalle parole di Maurizio Di Cosmo, segretario generale della CGL Fermo. Beh, intanto abbastanza bene, anche se i ragazzi non erano numerosi, però ho una bella partecipazione, soprattutto di qualità. Stamattina in tutta Italia gli studenti medi hanno scioperato per una scuola che loro desiderano. La FLC, il sindacato di categoria nostro di insegnanti aderito, e chiaramente anche la CGL. Quindi abbiamo partecipato e perché pure noi pensiamo a una scuola che continui innanzitutto, che abbia una priorità, quella di essere pubblica, perché per formare il cittadino di domani la scuola ha bisogno di essere pubblica e deve avere soprattutto gli investimenti dello Stato. L'altra è che la scuola deve riprendere e riconquistare la funzione di mobilità sociale, emancipando e combattendo le disuguaglianze sociali. Intanto si continua a discutere del lavoro, il 25 ci sarà una manifestazione nazionale a Roma, ma questo governo come sta trattando il lavoro? Ecco, noi intanto stiamo preparando questa manifestazione del 25, oggi pomeriggio abbiamo un'assemblea generale del lavoro con tutti i delegati che saranno presenti e la CGL è mobilitata per contrastare le scelte del governo che non affrontano, secondo noi, i nodi essenziali della crisi. E pensiamo, siamo convinti, che questa battaglia ideologica, questo sì, l'atteggiamento del governo, perché sappiamo tutti, ormai tutti i commentatori, dicono che l'articolo 18 non produrrà un posto di lavoro in più, ma il governo l'ha ingaggiata per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto ai propri fallimenti. Chi ora inaugura il nuovo campo in erba sintetica è lo stesso che qualche tempo fa criticava l'opera pubblica e produceva esposti. Usa il tagliente sarcasmo Daniele Laurenzi, capogruppo della lista La Fonte, uniti per Nereto, per commentare l'inaugurazione, avvenuta domenica scorsa, di una delle strutture previste nel piano di riconversione del vecchio campo, o Menti, a Nereto. La puntura di spillo è riferita soprattutto agli esponenti del PD, all'opposizione prima, ora alla guida della cittadina. Forse i nuovi amministratori, dice Laurenzi, ignorano che il nuovo campo è stato realizzato con il ribasso di quel primo lotto che l'attuale esecutivo ha sospeso ormai abbondantemente oltre i 45 giorni e sul quale il PD, insieme all'ormai disciolto comitato Giulemani dal Menti, ha inoltrato esposti di irregolarità sulla gara d'appalto. Quando l'idea è buona, va condivisa e attuata, al di là se proviene dal proprio gruppo politico o da uno diverso. È la bontà dell'idea che conta, è l'idea di poter efficientare e migliorare la vivibilità di una nostra scuola con i soldi derivanti dall'otto per mille, ci è sembrata buona, così l'abbiamo condivisa. È quanto dichiara il sindaco di Nereto, Giuliano Di Flavio, riguardo la scelta di richiedere il contributo a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF per lavori di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. Infatti, la Giunta Comunale ha provveduto ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto di ristrutturazione, miglioramento ed efficientamento energetico dell'edificio della scuola media, richiedendo il contributo proveniente dall'otto per mille. Ammonta complessivamente a 850.600 euro il contributo regionale in attuazione del Parfas Abruzzo 2007-2013 che il comune di Giulianova si è giudicato per gli interventi di miglioramento sismico della scuola media Bindi e dell'elementare di Amicis. Relativamente alla Bindi, dicono il sindaco Francesco Mastromauro e l'assessore ai lavori pubblici Nello di Giacinto è di 526.870 euro il contributo regionale mentre la somma a carico del comune è pari a 366.130 euro per un totale di 893.000 euro e invece di 323.730 euro il contributo regionale per l'Ade Amicis qui vanno aggiunti 224.270 euro della nostra amministrazione in totale quindi 1.441.000 euro per il loro miglioramento sismico e i cui interventi prenderanno avvio dopo la redazione e l'approvazione del progetto esecutivo e con la necessaria procedura per l'affidamento dei lavori. Sulla pressione fiscale a Civitella del Tronto si consuma un nuovo attacco da parte delle opposizioni alla giunta comunale guidata dal sindaco Cristina Di Pietro in poco più di un anno dicono i consiglieri di minoranza l'unica leva azionata dalla maggioranza è stata quella fiscale vediamo i particolari nel servizio Tasse e pressione fiscale a Civitella del Tronto il tema quanto mai attuale a tutti i livelli e non solo nella cittadina borbonica alimenta forti critiche da parte dei tre consiglieri comunali di minoranza in una nota infatti Luca D'Alessio Giuseppe Zunica e Stefano Tucci affilano le armi e attaccano l'amministrazione guidata dal sindaco Cristina Di Pietro che avrebbe tradito a loro dire le promesse elettorali aumentando in maniera sensibile la tassazione comunale la rincorsa è iniziata lo scorso anno appena l'aggiunta si è insediata si legge nella nota con l'aumento dell'addizionale IRPE fa lo 0,8% il massimo consentito per legge senza neanche modularla secondo gli scaglioni di reddito ed è proseguita quest'anno con un'applicazione di tariffa Tasi Tari e Imo che incidono in maniera pesante sui bilanci delle famiglie nonostante ciò i conti comunali peggiorano di anno anno in anno sostengono i tre consiglieri si è passati da un saldo positivo di più 123 mila euro lasciato dall'amministrazione Ronchi a un disavanzo di 175 mila euro nel 2013 e addirittura di 660 mila euro nel 2014 accumulato dall'amministrazione Di Pietro l'indebitamento aumenta in maniera vertiginosa le entrate della Tasi 225 mila euro coprono a malapena le rate di mutuo che gravitano sulle nostre teste ed invece di tagliare le spese il sindaco si nomina lo staff da tenere presente che alcuni attuali amministratori si opposero ad un analogo provvedimento nella scorsa consigliatura critiche arrivano anche per la scarsa attenzione sulle politiche occupazionali e nessuna azione per il recupero di crediti imposte e canoni a gettito locale dubbi vengono anche avanzati infine sulla presunta illegittimità per una mancanza di documentazione in sede di approvazione del bilancio di previsione basta con attacchi personali li respingo sia quelli del centro-destra che del centro-sinistra in Movimento 5 Stelle lo afferma il candidato del PD alla presidenza della provincia di Ascoli Paolo D'Erasmo non capisco sinceramente chi parla di poltrone visto che sia il presidente che i consiglieri eletti saranno a costo zero non percependo alcun compenso prosegue l'esponente del Partito Democratico l'ente è certamente da riorganizzare essendo in predissesto ormai impossibilitato a fare mutui ma ci sono delle emergenze che devono essere risolte considerando i dipendenti come una risorsa la responsabilità seppur di un ente di secondo livello torna a ribadirlo lo stesso D'Erasmo è di governare giorno per giorno il territorio con spirito di servizio insieme ai sindaci e ai consiglieri lo dobbiamo alla comunità picena è attivo da un paio di settimane il servizio di pagamento della sosta su parcheggi blu con telefono cellulare e smartphone in aggiunta al tradizionale utilizzo dei parcometri questa è la novità in atto da pochi giorni a Stantelpidio a mare metodi di pagamento moderni e veloci quelli attivati in via sperimentale fino alla definitiva liquidazione della SEM servizi offerti da tre ditte che hanno deciso di non applicare alcuna tassa in tale periodo gli utenti avranno la possibilità di scegliere una delle tre ditte basterà scaricare la relativa app registrarsi e fornire i propri dati per poi provvedere al pagamento inoltre ognuno offre dei servizi aggiuntivi che diversificano l'offerta accanto al nuovo metodo di pagamento resta la tradizionale possibilità di utilizzare i parcometri così come è sempre stato anche a tela Ramosi celebra la 64esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro la manifestazione promossa dall'AMMI l'Associazione Nazionale Mutilati e Invadi del Lavoro si svolgerà domenica mattina alle 9 ci sarà il raduno dei partecipanti a Piazza San Francesco poi il corteo preceduto dalla banda di Tossicia raggiungerà l'argo Madonna delle Grazie e qui alle 10 sarà celebrata la messa a seguire sarà deposta una corona dall'oro davanti il monumento ANMIL e una studentessa universitaria reciterà la preghiera dell'invalido la giornata servirà anche a confrontarsi sui temi della tutela e dell'assistenza alle vittime del lavoro oltre che alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni a novembre parte la nuova stagione del teatro Ventidio Basso di Ascoli tra prosa grandi classici e iniziative per i ragazzi tra le novità il musical ispirato ad Amarcordo e sette spose per sette fratelli vediamo i particolari nel servizio anche quest'anno la stagione del Ventidio Basso sarà molto ricca sì molto ricca piena di tante occasioni devo dire che completiamo proprio la proposta oltre a una stagione sontuosa fatta di di sedici appuntamenti tra i più importanti insomma delle attività di teatro in Italia davvero di qualsiasi tipo insomma da sette spose per sette fratelli il musical Emilio Soffrizzi Sarto per signora un appuntamento con la danza siamo molto contenti questo Amarcord sulla scia del film di Fellini con Rossella Brescia protagonista ma accanto a questa stagione sontuosa importante insomma degna di una grande città come Ascoli Piceno anche due sezioni a cui teniamo molto che abbiamo inaugurato l'anno scorso perché ci interessa molto il progetto teatrale per la stagione di Ascoli il teatro per ragazzi quindi tre domenicali per tutte le famiglie hanno avuto un grandissimo successo l'anno scorso e poi una parte di contemporanea che ci sta molto a cuore l'abbiamo inaugurata l'anno scorso con grande successo e quest'anno ospitiamo uno degli spettacoli più attesi è Madante regista che ormai tra cinema teatro alla scala non ha bisogno di presentazioni presenta il suo sorelle Macaluso ma anche uno spettacolo strambo tra musica dal vivo e danza come quello dei Marlene Kunz danzati una nuova proposta con Alessandro Marinelli quindi un debutto per uno studio sulla Contessa Giulia insomma tanta 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 carne al fuoco tanta proposta come un grande teatro appunto come il massimo della città può e deve fare e devo dire che i risultati degli ultimi anni in particolare dell'ultimo anno ci spingono sempre più a pensare e a proporre visto che c'è un pubblico che aspetta questa possibilità grande attesa a Fermo per la prima dell'opera ad esordire sarà l'Aida di Franco Zeffirelli che torna dopo 35 anni sul palcoscenico del Teatro dell'Aquila vediamo i particolari nel servizio Fermo aspettava l'Aida da 35 anni e l'Aida nel vestito confezionato dal maestro Franco Zeffirelli approda domani sera al Teatro dell'Aquila per la prima della nuova stagione lirica fermana sul libretto di Antonio Ghis Lanzoni e musiche di Giuseppe Verdi Zeffirelli dirige con il maestro concertatore e direttore Massimiliano Stefanelli una Aida di piccoli spazi che si discosta dalle magniloquenze dell'opera andata in scena ai piedi della Sfinge o all'Arena di Verona ma che recupera la vera essenza dell'opera verdiana una Aida intima che canta l'amore è una schiava che si era integrata nell'Egitto e quindi è moderna perché c'era un'integrazione ma poi i poteri forti la schiacciano e lei per amore muore con il suo amato è un'evocazione della storia dell'Ottocento c'è la fuga verso l'esotico quindi la libertà è un paese che deve vincere la crisi che è l'oppressione dei poteri forti quindi è una storia d'amore molto romantica ma con addentallati di un'attualità che solo Verdi con la sua poesia la sua sensibilità poteva esprimere e Zeffirelli lo interpreta in modo molto intimo quindi non vedremo i grandi trionfi dell'Arena di Verona ma come il popolo e Aida stessa vede il trionfo quindi è dalla parte dell'uomo e non dalla parte del potere che cosa rappresenta quest'opera qui a fermo per aprire la stagione che è una grande tradizione come sempre intanto un grande ritorno perché Aida manca dal stato dell'Aqueda da 35 anni un ritorno alla grande perché riproponiamo filologicamente l'allestimento che Zeffirelli presentò nel 2001 per il centenario della morte di Verdi in un piccolo teatro di Busseto 7 metri e mezzo di palco qui sarà un po' più grande ma sempre intima l'attesa in città è palpabile abbonamenti in crescita spettacolo di domani già tutto esaurito e il sindaco Nella Brambatti che rivendica i propri investimenti per la cultura come settore primario per l'andamento della città il centro anziani Colucci affiliato all'ACLI di Ascoli Piceno e all'Unione Sportiva ACLI in collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali del comune di Ascoli Piceno propone per l'anno 2014-2015 alcuni corsi di attività motore rivolte alle persone che abbiano superato i 55 anni di età le attività si svolgeranno presso la palestra polivalente in via Spalvieri nei giorni di lunedì e venerdì altri corsi di attività motoria si terranno presso la palestra Squarcia in Viale dei Gasperi nei giorni di martedì e giovedì presentata la rassegna dei cuochi dal 10 al 12 ottobre a Villa Santa Maria la più rinomata kermess gastronomica made in Abruzzo vediamo i particolari nel servizio prenderà il via la 36esima edizione della rassegna dei cuochi la più rinomata kermess gastronomica della regione promossa dal comune e dall'istituto alberghiero Marchitelli il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina a Pescara nella sede del consiglio regionale che patrocina l'evento un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori come sottolinea il sindaco di Villa Santa Maria Pino Finamore ci sono delle novità insomma abbiamo cercato di rimodulare un po' nella tre giorni gli avvenimenti diciamo quello clou è sempre la domenica la domenica alle 17.30 dove vi è l'esposizione dei piatti lungo le vie del centro storico e abbiamo tre ristoranti dove è possibile tre ristoranti nel centro storico sono allestiti e dove è possibile cenare dove abbiamo rimodulato anche quello che in passato era fatto con una sorta di self service quest'anno avremo dei ristoranti con servizio quindi abbiamo cercato di alzare anche un po' la qualità non solo delle pietanze ma anche del servizio stesso Il consigliere regionale Alessio Monaco torna a ribadire la volontà del Consiglio di sostenere manifestazioni di eccellenza come appunto la rassegna dei cuochi di Villa Santa Maria Un fiorello occhiello per l'Abruzzo per l'arte culinaria abruzzese il 10, l'11 e il 12 appunto a Villa Santa Maria ci sarà la rassegna dei cuochi che in un contesto come quello attuale è da prendere in forte considerazione anche per la risposta occupazionale che questo settore dà oggi in Italia di Valenza anche l'istituto alberghiero che di anno e anno incrementa le iscrizioni quindi un'attenzione particolare anche in questa circostanza l'ufficio di presidenza ha concesso il patrocino all'iniziativa A Civitella del Tronto domenica 12 ottobre si terrà la prima fiera agroalimentare in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori di Teramo l'associazione Orgoglio Civitellese grazie anche alla disponibilità del comune di Civitella del Tronto ha deciso di ospitare all'interno dei mercatini dell'artigenato e dei rigattieri una sezione dedicata ai prodotti tipici e alle specialità del territorio avendo sempre a cuore la promozione turistica e culturale della propria zona sabato in piazza e adesso prima della pagina sportiva vediamo il meteo buonasera e benvenuti all'appuntamento per le previsioni meteorologiche per la giornata di domani vediamo la panoramica generale sull'Italia che ci mostra il bel tempo al sud e sulle isole mentre al centro sud i cieli saranno ovunque nuvolosi o poco nuvolosi con probabilità di temporali in Toscana nel nord-est i cieli saranno poco nuvolosi mentre vi sarà il rischio di precipitazioni di debole e media intensità nel nord-ovest scendiamo nei dettagli della previsione per Marche ed Abruzzo una bella giornata di sole in Abruzzo mentre nelle Marche vi sarà qualche nuvola le temperature si aggireranno attorno ai 25 e 27 gradi vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento alla giornata di domani di scena questa sera allo stadio del Duca l'atteso big match tra Ascoli e Pisa i bianconeri sperano di recuperare Carpani e schierano il bomber Perez dal primo minuto contando sull'apporto del pubblico il Teramo è impegnato nella difficile trasferta di Ferrara contro la Spal mentre l'Ancona cerca il riscatto a Forlì l'Aquila vuole confermarsi in casa contro la Lucchese per la serie di Girone F la maceratese cerca l'allungo in vetta contro la Miternina la Samb di Mister Mosconi alle prese con svariati infortuni cerca i tre punti in casa contro il Termoli il San Nicolò è di scena a Pesaro mentre i Nero Verdi e i Teatini ricevono la Iesina tra domani e domenica si gioca la seconda giornata del Girone F del campionato di Serie C di Basket ben cinque partite sono in programma domani mentre domenica si disputeranno due gare Robur Rosimo Pescara e Ortona Pesaro questo comunque è il programma completo della seconda giornata domani si giocheranno Casarredo Italia Pesaro Basket Gubbio Vigor Matelica Basket Tolentino Ice Cube Pedaso Campli Basket Amatori Falconara Virtus Civita Nova Val di Ceppo Basket Perugia Basket e domenica invece Robur Rosimo Pescara Basket We Are Basket Ortona e Pisaurum Pesaro tra gli anticipi in programma domani come detto c'è quello della Globo Alliance Campli che domani sera alle 21 sarà di scena sul parquet del Pedaso un impegno da non sottovalutare per gli uomini di coach Castorina al cospetto di una formazione che nella gara d'esordio ha vinto in trasferta vediamo i particolari nel servizio Avrà al seguito molti difosi la Globo Campli nell'anticipo della seconda giornata del campionato nazionale di basket di Serie C è stato organizzato un pull ma le molti seguiranno i biancorossi con mezzi propri come noto si giocherà a pedaso domani sera alle 21 contro una formazione che è andata a vincere largamente nella gara d'esordio a Pescara lanciando un segnale chiaro circa la propria forza da questa angolazione il calendario non è stato amico dei farnesi considerando che già la prima gara contro Falconara dell'esordio era di quelle seriamente a rischio indubbiamente riuscire a bissare il risultato del palabor Gognoni magari al termine di una partita che sarà sicuramente sofferta agevolerebbe in chiave psicologica i biancorossi che prenderebbero un'ulteriore coscienza del fatto che il loro roster non è secondo a nessuno e che in prospettiva la stagione potrebbe dischiudere spiragli positivi va ricordato che in questo torneo bisognerà centrare alla fine uno dei primi tre posti utile per aspirare al salto di categoria passando per i playoff e che la gara di domani a pedasso sarà seguita da Super J la telecronaca come tutte le altre sarà teletrasmessa domenica alle 22.30 Nel weekend la sesta giornata dell'eccellenza Marche offre spunti molto interessanti a partire dall'anticipo di domani al Ciarrocchi tra la matricola terribile Portodascoli e la nuova vice capolista Grotta Mare che grazie al successo di domenica scorsa sul Monticelli si è portata a un sol punto dalla capolista Biagio Nazaro reduce dalla prima sconfitta stagionale di Tolentino per la capolista si prevede un turno casalingo sulla carta semplice contro il Vismara da seguire anche il Tolentino una delle favorite del campionato dopo un avvio difficile i cremisi si stanno riscattando gara dopo gara e sono attesi dalla difficile trasferta di Urbania la partita di domani del torneo di eccellenza a Marche tra Portodascoli e Grotta Mare sarà ripresa dalla nostra emittente e poi trasmessa domani sera dalle ore 20 e 30 stesso discorso per il match di basket tra Pedaso e Campli in programma domani sera che poi sarà teletrasmesso domenica sera dalle 22 e 30 Pineto e San Salvo la prima più della seconda nella settima giornata di andata dell'eccellenza abruzzese hanno la possibilità di allungare sull'Avezzano che con il nuovo allenatore Lucarelli in panchina se la dovrà vedere sul difficile campo del Martinsicuro vale a dire sul terreno di gioco di una squadra che viene da 10 punti nelle ultime 4 partite e che ha fatto registrare il miglior bottino tra tutte dal fanalino di coda sul Mona che riceve il Francavilla squadra comunque molto ostica si attende la conquista del primo dei primi punti della stagione da domani con gli anticipi scena la sesta giornata del girone B della promozione Marche tra le due capoliste del girone che ha l'impegno più agevole sulla carta è sicuramente la Sangiustese che affronta tra le mura amiche il Montottone che ha un solo punto in classifica più complicato si presenta il turno per il Chiesa Nuova impegnato nella trasferta di Montefano completano il quadro le gare casalinghe di Aurora Treia Porto Sant'Elpidio Elpidiense Atletico Piceno Elvia Recina e Lorese nella promozione abruzzese si giocherà la sesta giornata di andata è ancora impegnata tra le mura amiche la capolista Castellalto che riceverà il Castelnuovo tra le due squadre al secondo posto la sola Palmenze Sant'Omero giocherà fuori casa sul difficile campo del Pontevomano mentre l'altra matricola al cerchio se la vedrà sul campo amico contro il Real Carsoli battuto nettamente in vibrata domenica scorsa altra gara di interesse è quella tra il Notaresco e il Mociano con i padroni di casa bravi a rialzarsi dopo la sconfitta interna di due turni orsono contro il Sant'Omero non perdete l'appuntamento questa sera alle 21 della nuova trasmissione di Super J il settimanale di approfondimento condotto da Luca Zarroli questa sera si parlerà di elezioni provinciali ospiti i due candidati presidenti Renzo Di Sabatino e Gabriele Astolfi e i due sindaci della Val Vibrata Alessandra Ricchi di Tortoreto e Franco Carletta di Controguerra e questa era la nostra ultima notizia Genius termina qui buona serata di Controguerra di Controguerra